Un'altra pesante e grave conferma riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Rimane inaccettabile il numero delle morti bianche, che anche quest'anno ha superato il livello di mille casi con l'inquietante ritmo di tre morti al giorno. Se rifletchiamo attentamente, questi ed altri problemi che segnano profondamente la nostra società solo in parte possono essere affrontati con una risposta di carattere penale. Necessitano di interventi di più ampio respiro.